Fratello, questo video è per te, ci provo, infilo la cam qua, sono ubriaco, è sabato, provo a farti vedere la strada che va da Modena, Casinalbo, in quel bar che mi piace il casino, la palazzina, incrociamo le dita che non succede niente, che non passi, che non mi cada la cam, proviamo vecchio, fai tre. Fai tre. Fai tre. Stab a тебе... Fatto, come sapere, bene, 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 bene. Bedromass, oh 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 oh! Call in Bedromass! Grazie a tutti. E' un bedrommé, io voglio un bedrommé. Ho fatto il mio record di velocità, 675 all'ora. E' un bedrommé. 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 E' un bedrommé.